Ciao a tutti, io sono Coinbagio. A differenza di me stesso, il mio avversario vuole un'Italia in cui porno stare e sindacati corrotti possano essere una presa in giro dei nostri reality show televisivi. Quando sarò eletto, farò in modo che i pirati somali e i dittatori nordcoreani non possano togliere il nostro diritto di uccidere gli stranieri. Razaoi riceve denaro da banchieri spericolati, signori della guerra tribali e medici avidi. Voglio un'Italia dove assistenti di volo e migranti illegali non possano minare i nostri quartieri laboriosi. Sappiate questo, io credo nelle nostre Bibbie, nei nostri coraggiosi vigili del fuoco e nella nostra forza lavoro partigiana. Mi rifiuto di sostenere una Toscana dove i malvagi compari di Giovanni Rana. E i pirati di internet possono corrompere il nostro diritto di sfruttare mano di opera straniera a buon mercato. Lavoro per un'Italia in cui aziende farmaceutiche e liberali di Hollywood non possono distruggere i nostri drammi medici. Grazie a tutti. Buon Natale. Ciao a tutti. Al 2017 realmente se ha producido este incremento de prezio a un ritmo aproximado del 3,7%. La Bibieta ha subito, no si vive a un 7% en los últimos dos años.